Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul nostro canale Io sono Amelia e questo è il primo unboxing della mia vita Ed è l'unboxing di una kawaii box In realtà l'avevo ordinata tipo due mesi fa Due mesi e mezzo fa Ed è arrivata oggi, stamattina, in posta Siccome sono malata e non ho niente da fare Vediamo insieme che cosa c'è dentro Sto morendo Allora, in realtà non è proprio arrivata in condizioni molto belle Insomma, è tutta schiacciata, distrutta, ecc Però, vabbè, speriamo che non ci sia dentro niente di... Ecco, fragile Dentro si presenta così E c'è la cartolina con segnalate tutto quello che contiene questa box Oh, è quella sulla Pasqua Madonna, sono troppo emozionata Perché ho letto Sanrio e secondo me c'è qualcosa di Godetama Sì Ma com'è carino È Godetama In versione Pasqua Oh ma che carino Ma vabbè Già l'adoro Già valeva la pena Ok qua ci sono Dei Boh Probabilmente sono caramelle O qualcosa del genere Sì caramelle Aiuto caramelle Ho delle robe da sciogliere Non lo so Oh una piccola gomma Beh piccola mica tanto Una gomma cucciolosissima Oh Troppo carino Oh ma questo è Tappi per le orecchie Ecco qua questa è la confezione Questo lo userò anche per metterci dentro Non lo so il dentifricio Per il bagaglio a mano Oh una tenerissima penna Non so se si vede qualcosa Una tenerissima penna Madonna ma ho una voce veramente da uomo oggi Vabbè Just eat it Oh ma che carino E' un mini Zainettino Portachiavi E' un portachiavi in forma di zainetto Oh ma è anche un sacco grande dentro Fischia Sì è un sacco spazioso dentro Oh ma com'è carino E ce l'ha scritta davanti Troppo tenerella Oh Vabbè Cioè io sto tornando a livello di 15enne Va bene Amelia sei un po' grande per queste cose Però hey Non sei mai troppo grande per queste cose Un Chiutissimo Un chiutissimo non esiste Un chiutissimo righe di lino Oh A tema hello kitty Oh Non è troppo carino Vabbè Cioè Mi sento un idiota E poi ci sono stickers E Boh Carta regalo tipo Di questa forma Con scritto hello E poi gli stickers Con la balena Non sono troppo carini And this is it Ok E poi vabbè c'è dentro un'altra cartolina Che dice Ricordati di share Di condividere E poi sotto See you again next month Oh Ma che cose troppo carine Mi è piaciuto un sacco Basta Cioè no vabbè Adesso vado a fare la bimbo minchia Lontano da qui Scusate le mie condizioni di salute Ma ci tenevo a farvi vedere Che cosa è arrivato Con la kawaii box Madonna Back to 15 Ok Io vi saluto qui Anche perché Penso di stare per strannotire Fra un minuto Vi ricordo che Potete seguirci Sui nostri social Facebook e Instagram Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al nostro canale Io vi saluto E ci rivediamo Al prossimo video Ovviamente Vi lascio il link Anche di kawaii box Qui sotto Mi raccomando Andate a fare un giro Bye bye